Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Torniamo a parlare del progetto Viale dell'Artigianato. Siamo con Marina Elena Chiro, titolare della Gelateria Suave di Via Zanardi Bonfiglio che ha in un qualche modo presentato ai vogheresi questo progetto, l'ha proposto, raccogliendo molti pareri favorevoli. Oggi c'è stato un incontro, dopo settimane di varie richieste, presso l'Ufficio Cultura del Comune di Voghera. Chi era presente e di cosa si è parlato? Sì, buonasera Marco. Erano presenti l'assessore Azzaretti, era presente il signor Macconi dell'Associazione Comercianti dell'Oltrepo Lombardo, il signor Rainelli dell'ASCOM, era presente anche il signor Secondi dell'Ufficio Commercio. Comunque io avevo invitato anche l'assessore Grimaldi che si è presentato, è stata molto presente, molto carina e molto brava. Poi un'altra persona che ha... Consigliere Grimaldi del Movimento 5 Stelle. Scusa, consigliere Grimaldi del Movimento 5 Stelle. Mi hanno dato dei consigli, comunque loro sono dell'idea che è tardi per quest'anno, ma comunque se riesco a fare un programma ben definito, ma soprattutto se riesco ad avere l'appoggio di qualche associazione di categoria, forse si potrà discutere nella giunta. Il discorso che loro mi hanno dato, poi il nome, l'indicativo, il nominativo del signor Rocco del Conte, con quello ho già parlato. I confesercenti, giusto? I confesercenti, bravissimo. Comunque mi hanno dato questo nominativo, ho già parlato con lui, e il signor Rocco del Conte mi ha confessato che per quest'anno sarà impossibile farlo, però si potrebbero fare comunque per l'anno prossimo, parlare anche dell'anno prossimo. C'è anche la possibilità che lei apra direttamente un'associazione corretto? Allora, quello che mi hanno consigliato anche è che io possa aprire un'associazione non profit, quindi mettere insieme tutte le persone che sono interessate all'iniziativa e portare avanti la faccenda. Poi comunque loro devono discutere nella giunta comunale. Oppure c'è un'altra possibilità di prendere contatti proprio con le società che organizzano i mercatini di Natale e dare mano tutto a loro. Ma l'iniziativa è partita con l'intento di far vivere il territorio, non andare a prendere persone che vengono da altrove e organizzare tutto loro. Noi quello che vogliamo fare è far vivere il nostro territorio, i nostri artigiani, i nostri commercianti. Cosa intende fare adesso quindi? Io vado avanti, io vado avanti tranquillamente, devo prendere contatti anche con le altre strutture istituzionali con quali ho parlato, ho preso dei contatti in precedenza, mi darò da fare per capire se realmente quest'anno si può fare realmente qualcosa e poi tanto io terò tutto informato sul Facebook. A qualcuno Facebook non piace, però Facebook è una grande tavola dove si possono discutere di tantissimi argomenti. Grazie mille. Grazie Marco, grazie tante.